Il volume delle comprevendite registra una tendenza positiva nonostante un leggero rallentamento nella seconda metà del 2022 e nei primi mesi del 2023. Secondo i dati illustrati nella terza edizione dell'osservatore immobiliare del centro nord Sardegna presentato nella sede di Confindustria Sassari, in generale i prezzi degli immobili nell'isola hanno registrato un rialzo medio del 2,5% annuo nell'ultimo triennio e sono più alti nella provincia di Sasser rispetto a quella di Cagliari. L'acquisto immobiliare in Italia e soprattutto in Sardegna è sempre stato visto come bene rifugio perché è l'unica maniera per poter mettere a riparo i propri denari, i propri risparmi, sia come casa per abitarci, prima casa, ma anche come fonte di redditività, anche perché in questo momento storico c'è una grande penuria di locazione, di mercato della locazione, in quanto la maggior parte degli immobili vengono destinati per affitti brevi. Gli affitti più alti si registrano nel Sasserese, i più bassi sono nella provincia di Nuoro e nell'entroterra. Le zone più dinamiche rimangono quelle della costa orientale, stabili con lievi incrementi delle compravendite le città di Olbi e Alghero, mentre al contrario qualche decremento si registra tra Aglientu, Trinità d'Agultu, Valle d'Oria e Tempio. Stabili Stintino, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Loire e Golfo Aranci. Anche i mutui e le famiglie hanno registrato una crescita stimata intorno al 9% nel triennio. Sono stati inseriti i valori immobiliari del 2022-2023 che in questo momento sono ancora molto positivi, soprattutto sulla parte turistica, dove abbiamo tantissime richieste sia del locale che anche di quelli che vengono fuori dalla Sardegna. Mentre abbiamo un leggero calo, invece nelle grandi città come per esempio Nuoro e Macomere, l'entroterra è un pochettino più penalizzato.